Che cosa sarebbe per te avere la possibilità di andare in Giappone con la maglia azzurra? Una maglia azzurra? Ruolo presunto al calcetto che ruolo fai? Trequartista sedesso attaccando. Trequartista adesso che ruolo che non esiste al calcetto? La missione mondiale in Giappone è la realizzazione di un sogno che per 12 persone si realizzerà. È una mentalità tutta opposta alla nostra. Per far Giappone se ci vogliono 100 da dischi. Siamo una squadra, sbaglia uno ci rimettono tutti. Io non ho troppo vergogna di essere matto. Se sono matto, sono matto. Branca, branca, branca! Leo, Leo, Leo! Beh, la follia, come diceva Scolossi, è in equilibrio.